ciao a tutti anime bentornati su quinta dimensione letture carissime anime mie grazie mille a tutti quanti di essere sempre così carini su questo canale ringrazio tutti gli abbonati a questo canale chi vuole si può abbonare per ricevere dei vantaggi esclusivi lega la descrizione del video dove spiego un po e c'è anche un video dedicato grazie veramente a tutti quelli anche non abbonato ovviamente che mi seguono con tanto affetto grazie mille a tutti quelli anche in privato con i quali facciamo i percorsi quelli che sono sempre presenti qua su questo canale e non in ultimo insomma anche un grazie a chi si trova qui ad ascoltarmi per la prima volta vi ricordo a tutti chi è piacere di iscriversi a questo canale e attivare la campanellina cliccate poi su tutte così riceverete tutte le notifiche relative a quando pubblicherò proprio dei nuovi video allora anime questa è la tovaglietta dei messaggi divini che fa parte delle mie creazioni che piacciono tanto a me le uso per me per la mia casa per i miei spazi per questo canale però chi vuole a chi piace può acquistarle leggete sempre la descrizione del video perché trovate i tempi anche delle stese che faccio trovate le informazioni per parlare con me ricordo tutti i servizi anche in privato che offro andate a vedere anche il sito web per avere una panoramica un pochino più ampia di tutto quello che è l'universo proprio di quinta dimensione letture il sito è quintadimensioneletture.it tutto in descrizione del video trovate quindi scendete un po' a vedere sotto tutto quello che vi scrivo proprio per vostra informazione oggi trattiamo un argomento già molto conosciuto per tanti ma c'è sempre qualcuno che non lo sa e come da questo canale che ha la missione proprio di divulgare i sacri insegnamenti le altissime energie insomma chi mi segue già lo sa come si lavora qua in questo canale e tutto quello che è proprio l'offerta per voi tra virgoletto ovviamente offerta nel senso proprio a livello molto alto di conoscenza e di divulgazione per tutte quelle anime all'ascolto che hanno veramente un sentire profondo che si sono necessità proprio personale interiore veramente profonda di capire di sapere di ascoltare di recitare di connettersi insomma tutto quello che è proprio lo spirituale per noi allora oggi c'è la grande invocazione che è proprio un'invocazione adesso vi spiego un pochino come funziona è ovviamente un testo pubblico di domino pubblico che c'è stato donato da alice n bailey poi vi spiego insomma un po' anche come funziona allora alice n bailey è stata proprio una grandissima promotrice di tutto quello che è l'esoterismo è stata anche ovviamente molto apprezzata nel panorama letterario internazionale ha scritto molti libri è stata proprio un esoterista dicevo un astrologo una teosofa molto veramente molto apprezzata era una inglese appunto alice n bailey inglese nata nel 1880 e deceduta il 15 dicembre del 1949 e ci ha dato proprio ci ha donato non solo questo ma anche a livello proprio di raggi lei è molto esperta anche di questo a livello dei sette raggi trovate la playlist proprio anche in questo canale dei sette raggi e cinque raggi occulti proprio dedicata a questo percorso anche metafisico che è molto importante per ogni discepolo detto chela che si chiama in metafisica però insomma è un argomento in più che potete espandere ovviamente questo si riferisce a tutti quelli che vogliono saperne di più che vogliono una crescita veramente importante a livello personale a livello spirituale proprio di se stessi della propria anima che hanno capito che stanno qua per un motivo che c'è una missione è da portare a termine allora quello che vi dico oggi qua è riportato in un bellissimo articolo che è nel mio blog appunto sotto la sezione contenuti quindi cercate su www.quintadimensioneletture.it proprio questo articolo che si chiama la grande invocazione perché perché li spiego meglio ho scritto tutto è un lunghissimo articolo dove spiego terzina per terzina quindi quella grande invocazione che faremo adesso insieme tre righe tre righe tre righe vengono spiegate molto bene in modo approfondito qual è il significato quindi quello è più bello leggerlo è come leggere un libro no ci sono dei contenuti che è bello ascoltare sentire la voce recitare insieme poi ci sono anche quei contenuti che è un piacere anche leggere approfondire sapere cos'è cosa significa no perché parliamo parliamo ma è anche bello studiare è anche bello leggere è anche bello capire cos'è questa cosa se la recito che che significa no ecco capire anche quello che stiamo dicendo quindi vi invito vi metto anche il descrizione del video la spiegazione di questa grande invocazione spiegata proprio frase per frase in gruppi di tre in modo che andate ad approfondire quindi magari prima ascoltate il video poi andate nel sito web appunto quinta dimensione letture punto it e potete proprio leggere approfondire questo argomento quindi questo video esce in concomitanza all'uscita dell'articolo proprio sul mio blog sul mio sito leggete proprio la descrizione del video è perché c'è il link diretto lo cliccate vi porta direttamente all'articolo senza dover cercare nulla cliccate e andate direttamente a leggere il titolo proprio la grande invocazione allora vi leggo brevemente perché la spiegazione è molto lunga e appunto l'approfondimento infatti ha richiesto proprio un articolo dedicato perché è giusto ci tengo a chiarire proprio l'argomento però vi dico un pochino quello che è ma velocemente e poi la andiamo a recitare insieme poi vi faccio vedere qua che cosa ho le nostre genesine sul fiore della vita facciamo una carta dei messaggi divini per ognuno di voi abbiamo uno due tre quattro cinque sei sette genesine di colori diversi poi ve le faccio vedere insomma meglio le togliamo da qua le mettiamo qui sul nostro tavolo e andiamo a leggere potete sceglierle anche tutte se volete insomma però vedete qual è l'occhio dove vi butta l'occhio di più sul colore ma ve lo faccio fare dopo questa cosa dopo che abbiamo recitato la grande invocazione allora vi dico un attimo questa grande invocazione che non appartiene ad alcuno appunto dicevo prima di dominio pubblico né ad alcun gruppo ma tutta l'umanità la bellezza e la forza di essa stanno nella sua semplicità e nel suo esprimere certe verità centrali che tutti gli uomini accettano in modo innato e normale la verità che esiste un'intelligenza fondamentale cui vagamente diamo il nome di dio la verità che dietro ogni apparenza eterna il potere motivante dell'universo è amore la verità che una grande individualità dai cristiani chiamata il cristo venne sulla terra e incorporò quell'amore perché potessimo comprendere la verità che sia amore che intelligenza sono effetti di quel che viene detto il volere di dio e infine l'evidente verità che solo per mezzo dell'umanità stessa il piano divino troverà attuazione alice n belli allora questo era un pochino tanto per capire di cosa stiamo parlando poi ovviamente vi ripeto sul sito web è proprio approfondito questo argomento vi invito veramente a leggerlo perché recitare solo così non va molto bene andiamo anche una volta solo però a capire perché e che cosa significa questa cosa è molto molto importante sono tantissimi anni che esiste questa grande invocazione ed è veramente un'energia che andiamo a muovere per chiedere proprio che questo piano detto proprio il piano divino detto anche piano proprio si possa manifestare tramite degli esseri umani proprio sulla terra quindi un po anche quello che si dice a Lemuria quello che dicono a Telos i lemuriani la nostra famiglia di luce di Lemuria che ci dice creare nuovamente il paradiso in terra creare il cielo in terra questa andrebbe fatta veramente tutti i giorni proprio come buono auspicio come un chiedere che l'energia venga intensificata no e che si possa manifestare finalmente questa nuova era questa nuova terra andiamo ad accelerare con la nostra richiesta facendo questa grande invocazione allora la facciamo insieme adesso ve la leggo il testo l'ho trovato ovviamente sul sito web e metto anche un'immagine con il testo già scritto ma ve la scrivo anche per intero sempre sul sito web così ve la potete anche tenere rileggere salvare da qualche parte ogni volta che ne avete voglia di farla io ma io insomma questo non è un argomento che va fatto quando uno se lo sente questo è proprio un chiedere veramente un pregare veramente potente che andrebbe fatto tutti i giorni allora facciamo un po di centratura con qualche respirazione e poi partiamo con la recitazione poi vi metto i messaggi divini dal punto di luce entro la mente di dio affluisca luce nelle menti degli uomini scenda luce sulla terra dal punto di amore entro il cuore di dio affluisca amore nei cuori degli uomini possa il cristo tornare sulla terra dal centro ove il volere di dio è conosciuto il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini il proposito che i maestri conoscono e servono dal centro che viene detto il genere umano si svolga il piano di amore e di luce e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede che luce amore e potere ristabiliscano il piano sulla terra possiamo anime anche dirle insieme potete anche dirla sopra di me questo va bene anche per i gruppi per chi si raduna in gruppo a fare qualsiasi cosa yoga meditazione tai chi qualsiasi cosa è buona anche recitarla in gruppo ma ovviamente sapete che il discorso proprio anche dell'individualità è molto importante per l'ascensione il silenzio la solitudine non un po come l'eremita è molto importante quindi chi fa gruppi è molto indicata ma si ricordi che il vero lavoro personale poi lo si fa in solitaria moltissime volte così quasi sempre in realtà chiunque è sceso era da solo questa è una cosa che voglio ricordare perché purtroppo adesso abbiamo con internet un sacco di cose molto ingannatorie ingannevoli per quanto riguarda gruppi corsi destra e sinistra insomma ricordatevi che il vero cammino del discepolato molto spesso è solo è da solo si fa magari un programma un percorso per cominciare proprio le proprie conoscenze attraverso altre persone avvalendosi di gruppi ma non esiste un maestro asceso che è asceso in gruppo ricordatevi questa è una cosa fondamentale persino il gesù cristo ascese da solo quindi ricordiamoci questa cosa bene per un discorso preparatorio ma il vero discepolato il vero cammino la propria strada il silenzio in dio lo si trova nella proprio nella pace interiore della solitudine allora prendiamo le nostre genesine le mettiamo qua partiamo sceglietene diverse anche quanto volete quelle che vi attirano scegliete prima lettura blu seconda lettura secondo messaggio argento terzo messaggio verde quarto messaggio viola quinto messaggio rosso sesto messaggio oro settimo messaggio arancio bello il nostro fiore della vita geometria sacra da tenere in casa mi raccomando su un quadretto su quello che volete ma tenetelo questo è un altro dei miei oracoli messaggi divini oracolo chi vuole legga la descrizione del video chi lo vuole acquistare è un oracolo di percorso proprio spirituale e personale vediamo allora dopo aver invocato questa roba stupenda che dico solo stupenda che è la grande invocazione chiediamo adesso all'altissima luce un messaggio per noi per chi ascolta qual è il messaggio giusto che dobbiamo ascoltare io ve le preparo tutte e sette voi con l'occhio vedete quella che è per voi potete sceglierne anche diverse qua non c'è limite vediamo la blu questo argento verde viola rosso oro arancione scusate che vedo un po sì infatti qui è un pochino spostato allora un attimo è le mettiamo a favore proprio di inquadratura eccole qua poi insomma l'importante è la sostanza è allora partiamo dalla prima andiamo qua dalla genesina blu ecco vediamo un po qual è il messaggio per la genesina blu ti sto mandando intuizioni 444 è il numero metto nella descrizione del video per cercare il significato angelico dei numeri di questo mazzo 444 connessione con i reami superiori benissimo i reami superiori noi qua ci riusciamo ad agganciarli ti sto mandando intuizioni quindi vuol dire che chi è all'ascolto ha scelto il colore blu la carta numero 1 colore blu sta ricevendo delle intuizioni quindi si adoperi per capire quindi qual è il passo da fare perché bene ricevere messaggi bene ricevere intuizioni però dobbiamo anche a una certa come si dice capire come applicarle nella nostra vita di terza dimensione 444 vai a vedere il significato del numero connessione con i reami superiori questo era il messaggio per te quindi se ti domandavi se per caso non so quell'idea era la tua o se era stato risposto dalle forze di luce qualcosa quasi era una risposta l'intuizione che hai avuto era in realtà un suggerimento che ti era dato dai reami superiori quindi questo poi ognuno valuti in base alla propria situazione su che cosa rapportare questa risposta che è uscita andiamo avanti genesina numero 2 la color argento grigio argento ti sto comunicando con i numeri cerca il significato 11 11 ti sto mandando segnali eccoci qua quindi qui attraverso i numeri abbiamo è perché ha scelto la genesina numero 2 argento grigio argento qui abbiamo una particolare connessione della forza della luce con te attraverso i numeri cerca il significato allora fai così nella descrizione del video c'è proprio playlist numeri degli angeli la clicchi vai a cercare 11 11 ma cerca anche l'11 singolarmente e l'1 singolarmente perché fanno parte della stessa cosa quindi c'è qualcosa che devi capire attraverso la numerazione la numerologia che ti sta arrivando ti sto mandando segnali attraverso i numeri perciò qua deve essere un tuo compito quello di andare a cercare il significato andiamo avanti con la genesina verde genesina verde terza carta sono con te chiamami tre volte numero 34 gli angeli maestri ascesi sono con te in questo momento questo è il messaggio per te abbiamo una conferma di vicinanza sia angelica che a livello di grandissimi nostri chohan maestri ascesi sono con te in questo momento il numero 34 da vedere nella playlist degli angeli significato allora il potere del tre volte tre che troviamo nei sette raggi e cinque raggi occulti altra playlist che ti invito a fare un percorso proprio per il discepolato per chi vuole aumentare proprio la sua connessione spiritualità crescita spirituale personale da fare quel percorso la assolutamente con il raggio del giorno ogni giorno quello il tre volte queste tre ha un potere proprio in più quindi se vuoi e desideri chiamare qualcuno un angelo una guida un defunto insomma quello che tu senti vicino perché senti che c'è qualcosa fallo tre volte tipo angeli venite angeli venite angeli venite angeli venite oppure il nome della persona che secondo voi è lì con voi in quel momento sempre tre volte il potere del tre volte tre questo è il messaggio per te proseguiamo genesina viola vediamo qual è il messaggio fate aiutare e chiedi guarigione per questa situazione abbiamo il viola anche qui è 20 02 potrebbe essere anche un orario che vedete le 20 02 intuizioni in arrivo allora in base al numero intanto vi ricordo a tutti ovviamente per ogni genesina non lo devo ricordare di andare a guardare la playlist numeri degli angeli leggi la descrizione così la trovi sotto la descrizione del video di questo video allora qua c'è una richiesta da fare chiedete guarigione per la situazione non forzate le guarigioni chiedete una guarigione e basta non chiedete che vada come dite voi perché non è così che funziona la persona che è in altissime energie anche non tanto altissima ma anche alte o comunque che si sta diciamo andando verso quella direzione non chiede cose che decide lui o lei chiede guarigione punto poi lasciamo fare a chi ne sa più di noi dall'alto qual è la strada giusta perché magari noi ci impuntiamo a chiedere per forza quello quando non è quello che serve o non è quella la strada ok abbiamo fede dobbiamo avere fede in questa cosa facciamo fare a loro è un po come quando magari molti all'ascolto mi sento che stanno facendo il decreto di crayon che ha scelto la viola fatemi sapere poi nei commenti lo sto facendo bene si chiama il decreto di crayon che dice proprio se non sto facendo bene spostami spostatemi ecco questo richiede una fede assoluta nell'altissimo perché siamo così proprio pieni di fede che ok accetto accetto di essere spostata accetto di essere spostato se non è il posto giusto io accetto di essere spostata quindi questo è un fortissimo atto di fede e di coraggio fatti aiutare dice qua quindi chiedi questo aiuto chiedi guarigione ma chiedila in modo neutrale tu chiedi guarigione e lascia andare chiedi e lascia andare questo è importante inoltre ci dice ancora che ci saranno delle intuizioni in arrivo per te proseguiamo con la genesina rossa genesina rossa tutto accade per una ragione anche se subito non ti è chiaro 875 vai avanti con coraggio 875 numeri ricordo anche a te genesina rossa da guardare da cercare sotto nella playlist numeri degli angeli trovi il link nella descrizione del video tutto accade per una ragione e così funziona se subito chi ha scelto la genesina rossa non capisce non comprende perché stia succedendo tutto questo stia succedendo qualcosa nella propria vita sappia che c'è un sincronismo divino all'opera sempre ecco la fede forse che manca c'è da capire da riuscire a capire di arrivare fino a quel punto tutto accade per una ragione anche se subito non ti è chiaro vuol dire che tu aspetta ok fai comunque le cose che devi fare c'è in moto comunque qualcosa che tu ora non vedi questa deve essere la tua fede per continuare ad andare avanti non devi vedere per credere devi credere per vedere e questo sarà premiato che nonostante tu non riesci ancora a vedere nulla però credi e questo credere tuo produrrà un altissimo valore vedrai che lo vedrai lo capirai questa cosa abbi fede di questo vai avanti con coraggio e andiamo avanti anche noi appunto con la genesina oro visto che ci avete di andare avanti noi andiamo avanti messaggi divini oracolo gli esseri di luce e i maestri abbiamo del loro vi spingono a mantenere la fiducia nell'universo 23 23 23 32 possibili orari che puoi vedere ma anche numeri angelici da andare ad approfondire qua vai a vedere sotto è la descrizione del video così vai subito nella playlist numeri degli angeli e vai a vedere il 2 il 3 il 23 il 32 lavora su di te con fiducia qua c'è ancora della fiducia richiesta dai maestri ascesi che ti dicono lavorare su di te qui ancora del lavoro quindi continua anche se lo stai già facendo tu continuano con fiducia fiducia fede fiducia convinzione quindi ti dice tu vai vai avanti continua perché questo è questo è importante esseri di luce e maestri ascesi ce lo dicono mantieni questa fiducia quindi magari si rivolge a chi forse sarà un po persa chi a chi gli viene un po a mancare insomma ma anche se ce l'hai ti dice lo stesso comunque continua a mantenerla quindi bene anche chi ce l'ha è non solo a chi gli manca anche se ce l'hai ti dice comunque continua a mantenerla quindi vai avanti così lavora su di te con fiducia tranquilla tranquillo questo è quanto allora andiamo con l'ultima la arancione la genesina arancione carta della fortuna chiudiamo in bellezza realizzazione successo questa è la carta più bella di tutto il mazzo proprio dei messaggi divini oracolo che ricorda quello che ho creato che analizzato io realizzazione successo carta proprio la più fortunata in assoluto quindi qualsiasi sia la situazione proprio della persona che ha scelto questa genesina qua la arancione la realizzazione del successo ci saranno qualsiasi sia l'ambito qualsiasi cosa la casa il lavoro l'amore le situazioni da sistemare le cose vecchie i soldi insomma cose che non vanno e la famiglia e questi figli tutto tutto realizzazione successo rilassati qua fai questo questo bel respiro genesina arancione fallo c'è la carta più bella del mazzo la carta della fortuna realizzerai tutto e avrai anche del successo quindi è garantito tutto quello che tu vuoi che desideri che aspiri per il quale magari stai pregando da non so quanto si realizzerà ci sarà proprio la fortuna questi erano i messaggi con le nostre genesine bellissime qua con tutta questa energia infatti proprio la viola che va come la nuova era adesso che siamo sotto ricordo a tutti san germen siamo sotto proprio il raggio viola siamo sotto la sua protezione il chohan della nuova era è san germen maestro acceso conte di san germen questo era quanto anime ricordatevi questa grande invocazione è molto importante perché aiutiamo la manifestazione del piano proprio sulla terra intendo il piano divino aiutiamo proprio che ci sia proprio questa manifestazione che possiamo vedere finalmente ma già sta accadendo è io lo chiedo questo lo sto dicendo ve lo sto un po illustrando perché acceleriamo fate anche ve lo metto sempre in descrizione il decreto di accelerazione per la nuova era che ce l'ha dato sempre al maestro acceso san germen e fa parte anche di alcuni decreti che sono nel settimo raggio fatelo fatelo perché acceleriamo proprio il risveglio acceleriamo finalmente andiamo via basta perché sentiamo tante parole tante catalizzazioni ci siamo ci siamo eccoci qua è ora ormai il momento insomma cerchiamo di aiutare anche noi contribuiamo all'accelerazione proprio dell'instaurazione della nuova era quindi che si instauri su questo pianeta che ormai non desidera più essere come è stato finora è ma il risveglio iniziato abbiate fede che ci siamo è ci sono tantissime anime che stanno facendo tantissima luce veramente tanto per tutti anche per quelli che ancora niente da fare non è per sta vita come si dice vabbè pazienza ognuno è secondo il suo piano è non posso non toccarle come vedete vado sempre qua allora grazie mille a tutti di essere stati qui insieme a me anime va bene grazie mille ancora tutti quanti quelli che mi seguono gli abbonati tutti tutti veramente tutti tutti quanti un'anima per ognuna ogni anima veramente tanto grazie 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 io vi aspetto presto qui su quinta dimensione letture per un nuovo video insieme a me ciao a tutti grazie